Per guardare le infatti, per illuditi e per comprati, parole non servono, per dare la vita, a parte che l'anno e poi infatti, non vengono la morte. Invece di soli provviziati, non vengono le armi, invece di costare la gente, nel cuore di istruzioni, per fregare la morte e dolore, per i che vogliono il potere. Per fregare la morte e dolore, per i che vogliono il suo esatto il potere.